Omega Simaster Planet Ocean Chronograph, l'armonia perfetta tra stile e funzionalità subacquea. Nell'affascinante mondo dell'orologeria di alta gamma, il modello Simaster Planet Ocean Chronograph emerge come un capolavoro di eleganza e performance subacquea. Questo straordinario orologio rappresenta una fusione unica di design sofisticato e tecnologia avanzata, offrendo un compagno affidabile per le avventure marine e un'icona di stile senza tempo. Il modello Simaster Planet Ocean Chronograph è il risultato di decenni di impegno per l'eccellenza orologera e l'esplorazione marina. Questo orologio è stato progettato appositamente per le sfide delle profondità subacquee, offrendo una combinazione ineguagliabile di stile e funzionalità. Uno dei tratti distintivi del modello Simaster Planet Ocean Chronograph è il suo design sofisticato e funzionale. La cassa, spesso realizzata in materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile o il titanio, riflette la dedizione all'ingegneria di precisione. Il quadrante, arricchito da dettagli luminescenti, rappresenta l'essenza dell'esplorazione sottomarina. Tra le complicazioni visualizzabili sul quadrante del Simaster Planet Ocean Chronograph ci sono il cronografo su due subquadranti e il datario a ore 6 o inserito tra le ore 4 e le 5. E va anche visualizzabile il contatore dei piccoli secondi a ore 9. Il design del modello Simaster Planet Ocean Chronograph è stato accuratamente studiato per resistere alle sfide dell'ambiente marino, mantenendo allo stesso tempo un'eleganza senza tempo. Il modello Simaster Planet Ocean Chronograph ha catturato l'attenzione di celebrità e appassionati di immersioni che apprezzano l'unione di design elegante e funzionalità. Molti personaggi famosi hanno indossato con orgoglio il Simaster Planet Ocean Chronograph, aumentando la sua popolarità e conferendogli uno status di icona di stile. Il modello Simaster Planet Ocean Chronograph va oltre il concetto di semplice orologio, è un compagno ideale per l'esplorazione subacquea che incarna l'essenza dell'avventura e della precisione orologera. La sua storia di eccellenza, il design sofisticato e la tecnologia di punta lo rendono una scelta ambita per gli amanti dell'immersione. Indossare un modello Simaster Planet Ocean Chronograph significa abbracciare l'unione di stile e funzionalità. Che venga indossato durante un'immersione o nella vita quotidiana, questo orologio sarà sempre un emblema dello spirito esplorativo e dell'apprezzamento per l'arte orologera di alta qualità.